Siamo con Filippo Fortin della Trevisiani di Lamombottoli, in questa maglia rosa potrebbe darti la carica per una vittoria oggi? Sì, mi farebbe piacere tenerla però preferirei puntare la tappa oggi, vediamo come scolliniamo dall'ultima salita perché comunque ho sentito che è abbastanza dura, insomma se siamo là arriviamo io dal col, siamo le due punte veloci della Trevisiani e cerchiamo di darci una mano. I tuoi rivali principali di oggi? Penso uno su tutti i rossi, il primo vincitore, poi c'è Miccabile, Sonny Colbrelli che comunque è sempre pericoloso e poi c'è sempre qualche outsider che esce, che magari c'è la gamba, sta bene, poi è un arrivo insidioso. Una maglia rosa in tempo di giro potrebbe darti la spinta? Sì, potrebbe darti la spinta, lo so che non è la stessa cosa però è sempre una maglia rosa. Ti ringrazio, ciao.